Il primo pokémon assoluto, allora come fai a non piacerti dai Ma perché mi cadono i coglioni per terra, non c'è sfida ecco Questo non è un gioco, ma ti rompo il culo, ti la fa riparo a livello 1 che questa scimmia di merda gli sputa in un occhio e lo ammazza